L'allegoria di Roma, il secondo piano della Camera dei Deputati, perde i pezzi. Dalla volta si è staccato un metro quadrato dei 25 che compongono l'opera. I danni interessano un affresco realizzato dall'artista e decoratore Ignazio Perricci nel 1884. Roma, simboleggiata dalla lupa, è celebrata come capitale in mezzo ad episodi di storia risorgimentale, tra cui l'incontro di Garibaldi con il re Ateano. Nella sala della lupa, dove nel 1946 è stato proclamato l'esito del referendum, che segna la nascita della Repubblica, si sono svolti i primi sopralluoghi della Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici del Lazio. A breve, hanno annunciato i tecnici, saranno pronti i primi interventi di ripristino dell'intonaco rovinato a terra. In basso all'affresco si legge la frase A Roma ci siamo e ci resteremo, un'espressione che al di là del suo significato storico richiede ora un attento restauro. Marco Melegaro, Sky TG24